Comune non come una categoria ma come una relazione o se vogliamo la categoria di tutto ciò che rientra in una certa relazione e ecco qui posso proporle una definizione che ci offre un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma che ci scrive il bene comune è tutto ciò che è pubblico e quindi richiede rispetto però mi sembra che non sia completamente d'accordo sull'identificare il comune con il pubblico Il rapporto tra comune e pubblico è la grande questione di questi tempi ed è anche la nostra ricerca di categorie del pensiero e di analisi che possono essere utilizzabili in modo relativamente univoco Comune e pubblico sono due categorie differenti Il pubblico...